Musica 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 Oooo Merve An'im hoşgeldiniz Naber nasılsın Merve Sonere hoşgeldin Kız ne kadar meraklıymışsin benim periscope'a girmem hemen Servis kaza yapmış trafik felç oradan dön bence değil Almiraya geldik abi buraya kadar boştu Burdan sonra bir şey kalmadı zaten Merve An'im hoşgeldin İyiyim iyiyim sağ ol Seni sormalım görüşemiyoruz İddiayı karşılıklı feshettik Aslan'ım hoşgeldiniz İddiayı ticarete döktük Efendim Aslı İddiayı ticarete döktük Efendim Aslı Çiğdem hoşgeldin Çiğdem hoşgeldin Çiğdem hoşgeldin Çiğdem hoşgeldin Allah daim etsin non c'è l'initore qui veniamo? non c'è l'initore l'initore del settore l'initore della squadra l'initore 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 medico l'initore 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 la do yo Il mio guarda è stato un po' di raggiungo Il mio guarda è stato un po' di raggiungo Il mio guarda è stato un po' di raggiungo Somma, ascii grazie a tutti la città di questa città di questa città di qui Perché non si è arrivato e arrivato? Perché non si è arrivato a noi? Ah! Nervi! Asi! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao! Asi imalli bir laf mordi bu. Iccemi kokiote isimli un canale. Ne müzikle uğraşıyorsun? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.